Ciao ciao a tutti ragazzi in questo video vi faccio vedere come faccio le foto su Instagram da sola Allora prima di iniziare con il video vi voglio far vedere cosa uso per fare le foto da sola L'ho comprato da poco su Amazon ed è fantastica Ed è una luce ad anello con supporto per il cellulare È molto comoda e puoi metterla dove vuoi con questo gancio È davvero fantastica Poi c'è questo telecomandino che puoi basta premere questo pulsante e scatti la foto Quindi puoi anche nascondere la mano e scattare la foto ed è davvero comodissima come cosa La cosa bella poi di questa luce è che puoi accenderla e spegnerla come vedete Poi puoi anche diminuire la luminosità e aumentarla Questo è il massimo E puoi anche cambiare il colore Cioè tipo da caldo a freddo Più giallastro o più bianco o bluastro E funziona attaccandola alla porta USB del computer Ok adesso inizio a fare qualche foto Ho deciso di farlo anche con questo cappello E adesso cominciamo Alla prossima Ok, mi sono appena cambiata E ecco la posizione in cui faccio qualche altra foto E ho messo questo lenzuolo bianco sul divano Poi mi metto questo cappello bianco Ed ecco il telefono posizionato lì E adesso incomincio a fare qualche foto Wolfie! E comunque ragazzi la luce ad anello Ho lasciato il link qui sotto nell'info box Se vi interessa Come vedete ho messo Wolfie nel cappello Com'è carino E comunque spero tanto che vi sia stato utile Che vi ho fatto vedere come faccio le foto da sola E comunque ricordatevi di mettere un sacco di like E di iscrivervi a questo canale Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao! Ciao ciao!